Buone notizie su fronte dell'emergenza da Covid-19 per il centro Abruzzo. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, rimane vuota la casella dei nuovi positivi. Nessun contagio. Un buon segnale che fa vesperare sul contenimento della diffusione del virus in Valle Peligna e Alto Sangro, con la zona bianca ormai avviata, fermo restando i fronti ancora in corso di monitoraggio. E' il caso del focolaio legato alla tabaccheria di Pratola Peligna, che sembra ormai assestato, anche se si attende l'esiro del tampone di un altro contatto tracciato nelle ultime ore. Ad oggi sono 318 sorvegliati dall'Astle nell'area Peligno-Sangrina, mentre è sceso a 108 il numero dei attuali positivi, di cui 41 domiciliati a Sulmona, 28 a Pratola. Scende anche il numero dei ricoverati. Ne sono 10, nessuno si trova in terapia intensiva. Tornano nella media i numeri della campagna vaccinale in atto dopo il freno a mano tirato nella giornata di ieri. Oggi sono state programmate per l'inoculazione 263 dosi a Sulmona, 160 a Pratola, altre 100 a Castel di Sangro. Continuano i disagi per gli incompatibili con AstraZeneca, che dopo l'indagine medica devono essere riprenotati dal sistema. Per loro i tempi restano lunghi e incerti. C'è poco da prendersela con gli operatori presenti negli ambulatori. Criticità vengono segnalate anche per quanto riguarda la vaccinazione in ambiente protetto. Si tratta di soggetti che, in forza di un quadro clinico particolare alle spalle, necessitano di un'assistenza medica più accurata. In città sono stati individuati dei locali in ospedale, come pure sono state svolte alcune sedute. Ma le attese, come denuncia il Tribunale, per i diritti del malato risultano lunghe, anche perché gli utenti non sanno a chi rivolgersi. Complessivamente il debutto della zona bianca è stato pressoché positivo in centro Abruzzo. L'effetto si vedrà nelle prossime settimane, per cui resta l'appello alla prudenza, soprattutto per il mantenimento delle distanze e l'uso dei dispositivi.